Musica Volete farvi la squadra dei vostri sogni e non avete crediti? Golda.com far per voi e con il codice Joker avrete un piccolo sconticino Benvenuti ragazzi bene e ritornati dal vostro Joker siamo tornati su un nuovo video di FIFA 15 ragazzi questa volta da come avete detto sempre nel titolo ragazzi siamo sulla squadra scelta da un ragazzo che mi ha consigliato la squadra belga ragazzoli mi ha dato una squadra da fare veramente strepitosa e ho colto l'occasione di farla quindi ragazzi guardate un po' che bella squadra e finalmente possiamo usare dei giocatori veramente forti e anche allo stesso tempo molto buggati quindi ragazzi eccola qua la nostra squadra con Sarsiccia Courtois in porto Company, Vertogen, Vermelon poi abbiamo Whistel l'ho preso adesso per 33.000 crediti ragazzi poi ho acquistato Nainggolan Tots per 360.000 crediti Già lo volevo a prescindere ragazzi però ne ho approfittato adesso per prenderlo tutto per me quindi abbiamo Nainggolan Tots poi abbiamo De Bruniere che sono sempre Tots il nostro mitico Hazard Tots dove ci abbiamo fatto solamente una partita ma con voi credo sì con voi forse ci abbiamo giocato già una volta Poi ragazzi ho preso lui Miralas come sterro destro e ho acquistato loro i due pilastri più baggai del mondo Benteke e Lukaku uno Man of the Match e uno Sif Lukaku l'ho acquistato per 37.500 crediti mentre Benteke e Sif per 50.000 crediti ragazzi come sempre un bel pollice in su consigliate le squadre, moduli, quello che vi pare a voi Ragazzi mi raccomando andiamo a farci la nostra prima partita, ne faremo sempre due come ogni volta vogliamo fare visto che ci divertiamo tantissimo Spero che questa squadra vi possa piacere anche a voi quindi mi raccomando ragazzi fatelo sapere con un bel commento, con un bel like e con quello che vi pare E aspettiamo di trovare il primo avversario Ok ragazzi abbiamo trovato il nostro primo avversario, abbiamo avuto 83 attacco, difesa, centro campo, fantastico Allora il modulo che mi ha consigliato è molto particolare perché ragazzi devo cercare di difendere il meglio possibile Noi abbiamo una squadra con 89, questo è una squadra diciamo regolare ragazzi, una squadra oro classica quindi molto buona Speriamo di non subire troppo, che ne so se il nostro avversario sia fortissimo così all'inverosimile Ma speriamo di riuscire a spaccargli il culetto e con la squadra che abbiamo ragazzi non dovremmo avere difficoltà Però come si dice, mai dire mai e noi oggi proveremo a sfondare i nostri avversari Quindi cominciamo subito la nostra prima partita con Benteke e il signor Lukaku Bagadone Eccolo qua subito, Lukaku ci tira una saetta E ho preso già il palo regà Minchia Minchia eccolo qua BAMMA Madonna mia ragazzi mi sa che con questa squadra faccio scintille Cioè regà, già ho fatto un tiro con Lukaku E abbiamo già rischiato di fare un gol Cioè rischiato Sperato di fare un gol Dammi sta palla, dammi sta palla Oggi finalmente posso anche usare il nostro Hazard Se riesco a fargli toccare palla Hazard E subito una grande palla di Lukaku per il signor Benteke Per il signor Benteke che se ne va così Volevo smarcarmelo Non ci sono riuscito Già parte l'egoismo da parte di Joker È ripartito Hazard, il nostro Hazard è ripartito signori Attenzione E se ne va al centro E se ne va al centro così E c'è per il No Look Signori, con il gol di No Look di Di Brugnet Attenzione Va subito a segnare l'1-0 Giocherino Cerca di fare un po' di gol E campagne Ci prova ragazzi Qua si riuscirà a fare il No Look Vedete che ha guardato da una parte Mentre ho segnato da un'altra parte Quindi Perfetto così ragazzi E iniziamo subito Con un bel 1-0 per Giocherino E si fa le sue skill Cioè le poche skill che sto Oh madonna mia Non ha perso palla questo E quitta Perfetto ragazzi C'è il primo quit Quindi andiamo a farci La seconda partita Abbiamo fatto già un gol di No Look E l'avversario Se ne è quittato Va bene Ok ragazzi Mi ho trovato il secondo avversario C'ha 92 di attacco 90 di valutazioni in squadra Oh mio Dio Suarez Toz Ronaldo Record Breaker Mamma mia Marcelo Toz Otamendi Alves Ramos Totti Alves Toz Neymar Toz C'ha solamente Bele che non è E' oro Ma cazzo Che squadra Minchia no Se vinco con questa squadra Voglio veramente Non me ne ha 30.000 like Ragazzi Veramente Attenzione Ci provo Con tutto il mio cuore Subito partiamo con Hazard Partiamo con Hazard Mamma mia Giocherino Te fa tremà Te giuro che te faccio tremà Te la faccio su da Sta partita Te la faccio su da Sta partita Subito calcio d'angolo Attenzione Vi ricordo Che noi abbiamo Benteke e Lukaku Signori Oh perché sta a tirare Courtois Perché Courtois Faccio a tirare De Brugne Vai Non lo so Mettiamo De Brugne Ci teniamo Benteke e Lukaku Signori Mamma mia Attenzione Che squadra Che c'è anche il nostro avversario Ragazzi Madonna mia Me stocca cazzotto Con Ronaldo Con Ronaldo record breaker Tutti gli altri Qua non si scherza Qua non si scherza Lukaku a giro Passo proprio L'ha tirata Proprio È una palla Che in cula Quella Ragazzi Perché la palla La palla bassa Rasoterra Non perdonano Non perdonano Non perdonano Guardate qua Un bel filtrantino Di Benteke Per Lukaku Che tira di prima E ci segna L'1-0 Signori 1-0 Contro una grandissima squadra Vai così ragazzuoli Stiamo facendo abbastanza Fatica Ma Ci stiamo Dando dentro Veramente tanto Di nuovo L'errore Oddio come è passato Oddio come è passato Sboom Madonna mia no Madonna mia no Regà Gli ho rotto Non è possibile Gli ho rotto le mani Al portiere Con Lukaku Con quel tiro Gli ho disintegrato Le dita proprio Dammi sta palla Porca miseria È partito Neymar È partito Neymar Ragazzuoli Quarantacinquesimo Quarantacinquesimo Signori Lo sapevo Lo sapevo L'ho appena detto Quarantacinquesimo Il mio difensore salta Liscia la palla Completamente Stavi solo Come Vabbè Lo sapevo Me lo sa Le hai sentita Una cosa del genere Porca puttana Me l'ero sentita Una cosa del genere Vai Courtois Ce la rischiamo Sti cazzi Boom Senti Senti E tu fuck you And get the slam Fuck you Fuck you Your mom Qui sarebbe Da rimettere Sei le cuffiette E insulta a tutti Regà Ci riprovamo Te segno tanto Thank you Ballons Thank you Thank you Mamma mia Ti purgo Saccottino di merda No con Courtois No con Courtois Sempre Cosa ho potuto Cosa ho potuto vedere Era goal Il portiere stava per terra L'ha presa No non ci credo Regà L'ha presa il giocatore Che stava fermo sulla linea No vabbè Succedono cose assurde No regà Mai visto una cosa del genere Vi giuro Mai Mirallas Al centro Oh mio dio Prenderlo un culo Vai a prenderlo Nell'ano Yes Non ti puoi più sentire Motherfucker Ya 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 Ti ha segnato Luca Vabbè 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 Mamma mia ragazzi 2 a 1 signori Contro Sto squadrone Giocherino non perdona Hai capito che Giocherino non perdona Eh Guarda qua come te Come si destreggia Giocherino Guardalo come si destreggia Guarda qua Guarda qui Guarda Che azioni Guarda qua che azioni Eh Giocherino Che non te fa manco respirare Bello de mamma Vai così La diamo qua a centrare così Attenzione Vediamo Ecco qui Giocherino Buca il suo avversario Mamma mia company Signori La mette dentro 3 a 1 Contro un avversario Con una squadra Della Madaus Proprio Ma non puoi competere Contro Baggadone Lukaku e Benteke Non puoi proprio competere Mi dispiace Anche se c'è Ronaldo Suarez E tutti gli altri O forse non sarai capace A usarli Fuori gioco Ah Cartellino rosso Ho fatto la cazzata Ah no Cartellino giallo Comunque Era gol Quello era gol Da priscina L'ho preso il gol Quindi Era meglio che Lo facevo tirare Siamo all'ottantasettesimo Però siamo 3 a 1 Se segna questo Che molto probabilmente Lo segna Siamo a 3 a 2 Ragazzi Quindi l'ottantasettesimo Possiamo ancora farcela A meno che Il giocherino Non t'ha la para Secondo me La tira centrale Io però Mi butto L'hai guardata Però Io t'avevo detto De buttare Ragazzi Io avevo detto De buttare Sì Sto mi ha fatto Bella Sì La palla Mi è più Guardate Sarei proprio Osservata Va bene Va bene Mamma mia Si dirige di mettere Un po' di brio Un po' di paura Ragazzi Passapostro Se tome Che manca solamente Un gol E mi distrugge Guarda un po' Come ti distruggo Io Guarda un po' Guarda un po' Distruggi Sta ceppa De palle Distruggi Questa Distruggi Questa Distruggi Questa Distruggi Dove sono Non ce l'ho Qua le cuffiette Porca puttana Distruggi Questa Dove stanno Dove sono Dove sono Andatemi Le cuffiette Distruggi Distruggi Sto Cazzo Distruggi Sto Cazzo Mi senti? And Distruggi Your Mom Distruggi Your Mom Fuck 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 You And Ronaldo Fuck Fuck Ronaldo Suarez Fuck 4-3 No problem Fuck you Fuck Fuck Finisci Giocherigno t'ha perdonato e t'ha purgato Mi dispiace 4-3 vattene a dormire Vai a cagare 16 diritto ci importa se l'è stramerita da Giocherigno Signori stramerita da Giocherigno E io ragazzi che dire mi sono stradivertito Veramente un casino a giocare con questa squadra Contro quell'avversario Con Ronaldo Suarez e tutti gli altri Ma gliel'ho fatta mangiare la polvereta ragazzi Gliel'ho fatta veramente divorare Con questo mega squadrone ragazzi è tutto Io ovviamente ringrazio per avermi consigliato Questa squadra ragazzi se avete altre squadre da consigliarmi Mi raccomando scrivete nei commenti Non mi intasate Instagram ragazzi Veramente non mi intasate Instagram Sono costretto a cancellare i messaggi Non mi intasate Instagram Per favore ve lo chiedo Mandatemi sulla pagina Facebook Dove pare scrivetemelo qua sotto nei commenti Ma non mi intasate Instagram Ve lo chiedo per favore Già ci siete? Passateci comunque Link in descrizione Grazie mille ragazzi per questa mega squadrona Io ragazzi ve lo dico Questi giorni verranno altri due pack opening Perché ve lo portare Uno è un appuntamento speciale In realtà Comunque vi devo portare questi giorni Anche i due pack opening Per levarmi per la ricerca di Messi E degli altri Niente ragazzi Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando C'è niente di brucizzo Commentate, condite Passate la pagina Facebook e Instagram Spero che vi sia piaciuto anche voi Alla prossima potenza Il vostro giocherino Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie.